Con il solito modo un po' tranchant l'ex ministro Tremonti, tempo fa, ha dichiarato che con la cultura non si vive. Per carità è verissimo che chi fa cultura in genere non diventa ricco e talvolta non ha di sopravvivere e si deve articolare in molte altre maniere operative per cercare di vivere. Però se il ministro Tremonti si guardasse intorno, constaterebbe che anche a livello economico, se l'Italia non avesse questo enorme patrimonio culturale che non è venuto per caso, che è stato accumulato negli anni ed è stato accumulato negli anni grazie a un grande mecenatismo, l'Italia scricchiolerebbe ancora di più. E allora che facciamo? Ragazzi, ragazzi di questa Italia che sta diventando di giorno in giorno sempre più rosa, sempre più egoista, sempre meno partecipe di quello che è il bene comune. Che facciamo? Non facciamo nessun investimento sulla cultura? Non facciamo nessun investimento su qualcosa che si sa che non avrà un immediato ritorno, ma che nel tempo sarà una grande ricchezza per questo paese? Dove sono i mecenati? Io sto cercando di vedere dove sono i mecenati veri, non quelli pelosini che danno dei soldi per sistemare un monumento, un altro monumento in cambio di pubblicità. Io cerco i mecenati veri, quelli che dedicano il surplus di tutte le loro ricchezze per costruire insieme con chi lo sa fare del bello.